Non riesco a chiudere questo mio intervento serenamente. Sono stati fatti errori enormi in passato nei tagli al sistema sanitario e durante la pandemia nell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e dei farmaci. Lungi da me fare democogia e strumentalizzazioni. Mi sembra doveroso però porre all'accento sulla situazione attuale. Ancora piangevamo i nostri morti, siamo qui a legiferare sull'istituzione di una giornata in memoria, loro memoria. Abbiamo fatto e abbiamo chiesto mesi di sacrifici. Ci siamo chiusi in casa tre mesi, abbiamo accettato l'elemosina dei 600 euro, abbiamo penato per il diritto e la cassa integrazione che ancora non è stata pagata a tutti. Abbiamo penato per i prestiti di 25 mila euro che ancora ad oggi la famosa potenza di fuoco non è arrivata a tutti gli imprenditori italiani che ne hanno fatto richiesta. Abbiamo avassato le saracinesche dei negozi, chiuso le imprese, subito il rinvio delle tasse, la scacerazione dei boss che ancora non si è conclusa, le evidenze della magistratura corrotta. Abbiamo subito il bavaglio delle manifestazioni non gradite, le multe ai commercianti e ai ristoratori, sì, quei ristoratori che il viceministro Castelli ha suggerito di cambiare lavoro se non hanno clienti, le multe a chi portava a spasso il cane o passeggiava da solo. Abbiamo quindi subito di tutto durante questa pandemia. Oggi subiamo la fregatura dell'Europa per aiuti sempre meno a fondo perduto ma sempre più in condizioni, tra cui togliere appunto quota 100, quindi non investendo nelle generazioni future e inserendo una patrimoniale sui beni degli italiani, possibilmente, e investendo su pannelli solari e monopattini che arriveranno dalla Cina a discapito delle nostre aziende italiane. Ora, la mancanza di una politica di flussi e dell'immigrazione controllata ci sta mettendo nuovamente tutti in pericolo. Siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergenza, siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergenza e non sapete come mantenere la poltrona, allora importate il Covid. Guardate, non è una questione di razzismo, ma è una questione di buonsenso e di sicurezza sanitaria pubblica. Il caso delle fughe di migranti da Mantea, di Iesolo, di Caversere, di Gualdo Cattaneo e di Taranto e tanti altri denotano l'irresponsabilità del vostro governo. Andate in Europa a chiedere fondi, professando la bellezza del nostro Paese e l'importanza del turismo per una ripresa economica e poi, nei fatti, fate scelte che rovinano l'immagine del nostro bel Paese all'estero e fate scappare i turisti. Abbiamo letto che l'Italia è l'unico Paese europeo a non aver ancora presentato a Bruxelles il programma nazionale delle riforme per fronteggiare l'epidemia, l'impatto del virus su imprese, occupazione ed economia. Ma dove volete andare se non avete ancora un programma dopo sette mesi? Avete bisogno di una task force nuova per programmare come utilizzare i 200 miliardi che vi hanno dato che arriveranno il prossimo anno? Mettetevi una mano sulla coscienza. Se l'avete, fate come abbiamo fatto noi in Commissione Affari Sociali. Abbiamo lasciato da parte le convinzioni, le ideologie politiche, lavorato con il buonsenso e ascoltato tutte le forze politiche per il futuro del nostro bellissimo Paese e delle sue generazioni, senza puntare su un meccanismo lento e insufficiente per far ripartire l'Italia, per rispetto anche delle vittime del coronavirus. Noi nel rispetto lo abbiamo e unitamente ci uniamo a tutte le condoglianze e annuncio il voto favorevole del gruppo Lega.